Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura, prima delle altre notizie, la trasferta calabrese per il Bari che affronterà il Castrovillari per il turno infrasettimanale di Serie D. Colleghiamoci con Cristian Siciliani per noi allo stadio Mimmo Rende. Sul terreno di gioco, decima giornata del campionato di Serie D, Castrovillari-Bari. Possiamo subito andare a leggere quelle che sono le formazioni scelte dai due tecnici. Soprattutto le novità per quanto riguarda il Bari è mister Cornacchini che si affida al turnover e lascia in panchina a Mili. Floriano e Brienza, 4-3-1-2. L'undici scelto dal tecnico del Bari con Marpella in porta. Curri, Cacioli di Cesare Nannini in difesa. Bolzoni, Langella e Piovanello a centrocampo e poi Meglia alle spalle di Siveri e Possebon. Cinque addirittura gli under chierati da mister Cornacchini in campo. Due defezioni invece per squalidica nel Castrovillari. Manca il capitano, Cacinali, il centravanti puntoriere. Non ci saranno ovviamente i tifosi del Bari al seguito per il divieto di trasferta. Per il momento, dallo Stadio Mara di Castrovilli, recluto tra poco per l'inizio della gara. Grazie Cristian. Vi ricordiamo l'appuntamento con lo speciale Bianco e Rosso subito dopo il nostro telegiornale. In diretta su Telebari e Radio Bari, la radio ufficiale della società Bianco-Rossa. Vi racconteremo la partita con la cronaca di Cristian Siciliani e i commenti da studio con Barbara Cirillo in compagnia di tanti ospiti. Non mancheranno le voci dei protagonisti in anteprima nel post partita. Potrete interagire con noi anche in diretta sulla pagina Facebook del TB Sport. E poi c'è l'altra faccia della medaglia. Le scommesse, vasta operazione coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia del Business. Un giro da oltre un miliardo di euro che ha visto il coinvolgimento anche di esponenti di spicco dei clan Parisi e Capriati. Si gioca una schedina, ci carichi 10 euro, i soldi virtuali diventano regolari. Un'enorme lavatrice per i soldi della criminalità attraverso le scommesse sportive. Un'operazione antimafia che ha coinvolto non solo Bari e la Puglia ha portato nella notte all'emissione di 68 ordinanze di custodia cautelare, 80 perquisizioni e un sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro. Partita da DDA e Guardia di Finanza con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia. Vito Martiradonna, 70 anni, conosciuto col soprannome di Vitine Lenel e tra gli esponenti di spicco del clan Capriati, sarebbe il vertice di questa organizzazione che tra gli altri vedrebbe il coinvolgimento anche di Tommy Parisi, 35enne, cantante e neomerodico, figlio del boss Savinuccio di Antonio Buontempo, 42 anni, Giovanni Paolo Memola, 39 anni e figli di Martiradonna. Per questi è stato disposto l'arresto. Sulla Se Capriati, i Parisi avevano creato un redditizio business in grado di movimentare oltre un miliardo di euro a colpi di clic, da Malta a Curaçao passando per le Isole Vergine e le Seychelles, per quella che era divenuta una vera multinazionale del gioco d'azzardo, riferimento anche per organizzazioni criminali di altre regioni. Se una parte dei soldi spariva tramite le agenzie di scommesse online delocalizzate, tra Paradisi Fiscali ed Est Europa, un'altra veniva reinvestita in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero intestati a prestanome. Ed è proprio da una delle intercettazioni raccolte dalle indagini che emerge la trasformazione delle politiche criminali dell'organizzazione mafiosa. Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu hai ancora la ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così, bam bam. Io cerco quelli che vanno così invece, bim bim, clicchessi. Clicchessi. Ma è normale, clicchessi e movimentation. Allarme bomba intorno alle 11 di questa mattina a Bari, dove gli artificieri hanno rinvenuto e sequestrato una bomba a mano in uso all'esercito, segnalata da alcuni passanti sotto un cassonetto in via Mendola ad angolo con via Leinaudi. Durante i controlli il tratto di strada interessato dalle operazioni è stato chiuso al traffico. La bomba era in sicurezza, priva di Spoletta e di Innesco. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se l'ordigno avesse comunque al suo interno della carica esplosiva. Si chiamano rampe del sorriso e sono lo strumento per la promozione di uno shopping accessibile e di un rivoluzionario welfare privato. Il prototipo, così come esibito oggi in conferenza stampa, è stato costruito dai ragazzi dell'Associazione Help, Assistenza e tutela per tutti e dagli ospiti di Villa Ata a Palese, nel laboratorio di falegnameria allestito nella struttura. Due pezzi facilmente maneggiabili e trasportabili che costituiscono però un'unica rivoluzione. Una rampa per persone in carrozzina da sistemare all'ingresso degli esercizi commerciali per rendere accessibile anche lo shopping. E sono dodici in tutto le rampe del sorriso, questo è il loro nome, che saranno presto consegnate ad altrettanti negozi. Per le altre si procederà invece su ordinazione. Ma la rivoluzione non è solo nell'oggetto, ma soprattutto nell'idea. Le zanzare, la cooperativa Zero Barriere e l'Associazione Help creano così una forma alternativa di welfare, quello privato, che coinvolge imprenditori che credono nel progetto. Dare mano da Maccomobili, che dal prossimo dicembre devolverà parte dei propri incassi ai ragazzi, all'azienda Frezza Legnami, che fornisce gratuitamente la materia prima. Un'operazione a costo zero per la collettività e che garantisce al contempo una retribuzione economica ai lavoranti, perché, e il messaggio è anche questo, la dignità lavorativa passa soprattutto dalla corresponsione di uno stipendio. All'ingegnere Marco Pellegrini del Rotary Club di Bari, infine, l'onere della installazione delle rampe. Tutti i dettagli nell'intervista ad Alessandro Antonacci dell'Associazione Le Zanzare. Questi ragazzi sono stati formati già per l'assistenza ai disabili sportivi, quindi, e ora stanno facendo formazione e lavoro. Quindi loro produrranno delle rampette che daranno accessibilità a tutti i negozi di Bari. Non abbiamo inciso per nulla sulle casse del comune di Bari, abbiamo fatto inclusione sociale, abbattimento di barriere, e soprattutto, grazie a Frezza Legnami, lo devo dire, che ha donato e continua a donare tutto il legname che dovrebbe essere smaltito, legname che se dovessi acquistarlo alla fonte costerebbe anche un bel po' al metro quadro, noi recuperiamo il materiale che Frezza Legnami dovrà smaltire per costruire queste rampe. Piovono topi dagli alberi, la segnalazione ci è arrivata questa mattina da Piazza Garibaldi e noi ci siamo precipitati con le nostre telecamere. Se voi venite qui ogni giorno, quali sono i problemi di questa piazza? I problemi sono i topi quando fanno scudo e poi non c'è mai pulizia a terra. Il bagno poi è una vergogna, fa paura andare nel bagno. Prima magari c'era un personale che veniva a scopare, che puliva e così, ma adesso non viene più nessuno. C'è il bagno, la donna e l'uomo, però ha una sola funzione, e li tendono per andare, le donne e i matri. Dentro a un bagno non è giusto, per le donne andare, l'uomo e l'uomo non è giusto, è una cosa che a me non mi va. Ci chiamano in redazione per denunciare la presenza oramai intollerabile di topi, ma a ben guardare una volta sul posto le lamentele sono molte di più. Parlano loro, gli anziani del quartiere, che in piazza Garibaldi, la centralissima piazza Garibaldi, passano le giornate a giocare a carte per ingannare il tempo. Piovono topi dagli alberi, ci raccontano, per poi denunciare la mancanza di polizia nella zona. Ma quello che più li fa infuriare è la condizione dei bagni pubblici, tutti rotti tranne uno, che poi è quello utilizzato oramai sia dagli uomini che dalle donne, intollerabile, soprattutto per le signore. E a microfoni spenti ci parlano anche delle continue vessazioni che sono costretti a subire da parte di gruppetti di ragazzini fuori controllo. Solo uno di loro alla fine si decide e racconta. Allora, io che ho 82 anni, che cosa posso fare? Un cerco di ragazzi di 13, 12, 14 anni, vengono di dietro, ti danno degli schiaffi, ti spottano, ti mettono i piedi davanti per farti cadere da te. Poi cercano in modo di avere anche che vogliono i soldi. Più pulizia quindi, ma anche più controlli, per un luogo come Piazza Garibaldi, che è centro di aggregazione, ma in cui rilassarsi diventa sempre più difficile. Conferenza stampa di presentazione questa mattina a Palazzo di Città del Festival Terre di Dentro, in programma dal 16 al 19, dal 23 al 25 novembre e il 28 dicembre a Bari. Terre di Dentro è un laboratorio multidisciplinare che in uno spazio reale, allo stesso tempo metaforico, tramite esponenti del mondo della scienza, della cultura e delle istituzioni, si interroga, riflette, immagina e sperimenta scenari possibili rivolti a cercare nelle crisi e nei cambiamenti strumenti per pensare, vivere, agire e reagire. Tra gli ospiti già confermati il fisico Roberto Bellotti, il filosofo Ermanno Bencivenga e la psicologa Anna Maria Speranza. Il festival è organizzato dall'Associazione Culturale Alnur, in partenariato con la Fedac, l'Associazione Circoli Virtuosi, l'ANSI, l'Associazione Nazionale Scuola Italiana, e promosso dall'Assessorato alle Culture del Comune di Bari e dalla Commissione Cultura del Comune di Bari. L'informazione termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti su nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Ben trovati da Nikos di 3D Meteo, giornata di giovedì, che vedrà sempre questo campo anticiclonico mantenere i suoi massimi tra Italia e Germania, ma così come buona parte dei paesi orientali del vecchio continente. Quindi perturbazioni che se ne rimarranno qui più ad ovest, sulla Spagna, da noi clima nel complesso asciutto. Una nuova giornata stabile su tutte le regioni. La prossima grafica della nuvolosità ci evidenza questa bella giornata con ampie aperture del cielo sulle due isole maggiori, buona parte anche del centro-sud. Vi segnalo solamente con la prossima grafica al nord la formazione sempre nottetempo di qualche locale foschia densa o nebbia, però diciamo inizieranno a dissolversi rispetto alla giornata di mercoledì, quindi maggiori occhiate di sole. Temperature miti mentre vi preannuncio nel weekend l'arrivo di aria fredda da nord-est. Dettagli ulteriori sull'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie. 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 Grazie.